Scegli o giardina e assapora la vita. Domenica, 16 aprile, si è svolto il primo trofeo Domenica in Rosa, gara individuale femminile organizzata dalla bocciofila Belvedere San Rocco di Marano. Ad aggiudicarsi la vittoria, a margine di una giornata all'insegna di emozionanti sfide, è stata Linda Santoriello, della bocciofila Enrico Milo di Baronissi, che nella finalissima ha avuto la meglio su Giovanna Santoriello, dell'ASD dei Cacciatori. A classificarsi terza è stata un'altra atleta della medesima società di nocera superiore, Maria Lamberti, mentre ha chiuso la manifestazione al quarto posto Margherita Parrella, della Enrico Milo. La Domenica in Rosa, appena trascorsa, è solo un'ulteriore testimonianza del grande impegno della FIB Campania, volto a dare piena espressione all'immenso potenziale dello sport delle bocce. In particolare, oltre ai progetti nelle scuole, che ormai da diversi anni vanno avanti con riscontri estremamente positivi, nel 2023 sono riprese anche le gare giovanili in giro per la Regione, dopo lo stop degli scorsi anni, reso necessario dell'emergenza epidemiologica. Un occhio di riguardo è riservato anche al settore paralimpico, come ha sottolineato il Presidente del Comitato Regionale, Antonio Barbato. Giovanili, gare femminile e gare paralimpiche per le disabilità intellettive relazionali e per le disabilità fisiche. Siamo impegnati fortemente in questo settore, perché crediamo, infatti i nostri progetti si chiama non lo inclusive. Noi crediamo che lo sport delle bocce è capace di includere qualsiasi tipo di fascia sociale, qualsiasi sia la loro attività, qualsiasi sia la loro età. Ci battiamo per questo, lavoriamo per questo e stiamo avendo ottimi risultati. Solo pochi giorni fa, a Pellezzano, si è svolto uno stage con i tecnici della Nazionale Italiana della Specialità Raffa, in vista degli appuntamenti in programma nel 2024, anno in cui si svolgeranno sia gli europei che i mondiali senior, a cui hanno partecipato anche i campani Francesco Adamo, Alfonso Montella, Domenico Palumbo e Pasquale Sequino. A fare un punto sugli obiettivi per il 2023 della Federazione Italiana Bocce è stato invece il consigliere federale Francesco Del Vecchio. Gli obiettivi? Consolidare ancora di più l'alto livello, siamo sulla strada giusta, c'è l'innovazione, c'è il tentativo di arrivare alle Olimpiadi, i paraolimpi che ci dobbiamo ancora classificare, i nostri atleti si stanno ben comportando in tutti i cieli, sono le gare prestigi giovanili, insomma c'è un mondo in movimento, c'è un mondo in movimento e sta dando i suoi frutti. Il Presidente federale è sempre più attento a quello che si muove intorno alla federazione, in quanto anche il mondo dello sport in generale, per cui siamo fiduciosi.